... Gasparini di Ribeiro, attenzione, c'è un fantastico gol Giuliano per sotto, Giuliano, il gol di Roberta Giuliano Assegnato pro... Roberta Giuliano E attenzione, arriva un gol Bellisario Prova la palla sul secondo palo, sotto il volo Maria Attenzione, incredibile Villareal Masedo ha... Ciò d'angolo, Lioba Mette nel mezzo E il gol di Roberta Giuliano Di Roberta Giuliano Entrettanto applauso va anche alla Futsalcaia Due ottime scuole veramente Ed eccolo qua Attenzione Villareal Masedo 56 secondi Attenzione Lamarino Perde il pallone E... Il fallo non viene avvisato Va... Realizza il... Finisce qui sul risultato di... 5 a 3 Con questa confusione di sotto La partita tra Futsal, Cagliari e Sporting Lokens La partita tra Futsal, Cagliari e Sporting Lokens Finisce qui sul risultato di più Là... It's